Quattro avvisi di fine indagine per omicidio colposo. Si chiude così oggi la triste vicenda del piccolo David Berghie, il neonato figlio di una coppia di senza tetto che è morto a 23 giorni di vita lo scorso 5 gennaio in una via del centro di Bologna, nell'indifferenza dei passanti per una polmonite non curata. Gli avvisi riguardano i genitori del piccolo e due assistenti sociali, la responsabile dei servizi sociali dell'area famiglia e minori del quartiere Santo Stefano e un'altra assistente incaricata sempre della stessa struttura. Ai genitori che all'indomani della tragedia avevano raccontato la loro storia anche dagli schermi delle tv nazionali, il PM imputa la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia che avrebbero portato alla morte prematura del neonato. Per le assistenti sociali l'ipotesi di accusa è di aver sottovalutato le condizioni disagiate in cui versava la famiglia, che viveva in strada in pieno inverno, senza una casa e con due bambini appena nati. David, il piccolo che non ce l'ha fatta, il gemellino e una sorellina di un anno e mezzo. Per quanto riguarda invece gli assistenti sociali, queste avevano l'obbligo giuridico di impedire la tragica morte del bimbo per una polmonite non curata, una negligenza imperdonabile insomma. La responsabilità penale è sempre individuale, la città ha reagito, è stata una cosa specifica che però ha creato un bel campanello d'allarme. Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha commentato questo atto della procura e rivolgendosi all'assessore ai servizi sociali, ha concluso «Stiamo lavorando con la Frascaroli per modificare regole e procedure». Gli assistenti sociali però sono persone che danno molto a questa città.